Le stufi dalla cucina pettinata? Quello che ci vuole è un tocco di sapore latino. Nessuno può resistere ad un taco, succulento e appetitoso. Nel mio corso comincieremo delle radici di questo autentico street food mexicano, per portare a casa tua l'esperienza autentica di una taccheria mexicana. Dalle mie parti si dice, se la vita ti dà limoni, metteni in un taco.